procedura a rappresentare e difendere il suddetto comune di Sgurgola in forma congiunta e disgiunta nel procedimento dinanzi al TAR del Lazio per l'annullamento della determinazione della regione Lazio la numero 7071 del 10 giugno del 2021 proposta numero 21351 del 10 giugno 2021 e di tutti gli atti connessi alla realizzazione di un impianto di biodigestore e di compostaggio sito in località Selciatella Anagni in ogni fase stato e grado del giudizio conferendo agli avvocati tutti i più ampi poteri di legge e di prassi e in particolare quello di sottoscrivere notificare e depositare il presente ricorso ricorsi per motivi aggiuntivi memorie difensive repliche e documenti di transiggere e conciliare di rinunciare al giudizio e o di accettare analoghe rinunce di farsi sostituire e rappresentare la procura alle liti è espressamente conferita anche per l'appello e o per l'appello cautelare o per l'accesso agli atti questo è la formalizzazione ufficiale del comune di Sgurgola in nome del sindaco che vi parla quindi è stato tutto formalizzato quello che abbiamo deliberato in consiglio comunale emanato poi alla giunta quindi al sindaco alla giunta ecco è stato tutto formalizzato quindi tranquilli quindi ci sarà questo ricorso al tar per il dire no al biodigestore che si dovrebbe costituire costruire ad Anagni grazie